Scatman's World Buongiorno ragazzi a tutti le comandone Veneziano siamo su F1 Challenge siamo con la mod 2009 ragazzi questa mod che ho scaricato praticamente comprende tutte le stagioni dagli anni 50 fino al 2015 sono 60 passaggi di roba siamo con il volante siamo con la Brown GP di Jenson Button siamo ottavi in classifica in qualifica abbiamo fatto un buon tempo anche perché abbiamo 85 su 100 come aggressività piloti e 90 su 120 l'abilità di piloti su questo gioco è stato difficilissimo perché poi fai basto un errore siamo fuori in gara i danni sono estremi tutto estremo fa spavento sinceramente c'è la difficoltà anche per un gondolaro non è semplice adesso quindi pensavo di fare le previsioni dei gran premi tipo il prossimo Monte Carlo con GP4 e invece su F1 Challenger portare le varie mod visto che ci sono tutte io direi di partire sì salve Salvino ciao e andiamo Jenson Button Gran Premio di Monza 2009 vai e si parte e si parte ragazzi sarebbe bello fare un mondiale su questa stagione qua però dovrei fare gare singole ogni volta scrivermi puntesi perché purtroppo i campionati sono un po' sono bugati vabbè concentrazione adesso incidente per Trulli intanto mamma mia super incidenti ragazzi guarda come pompa e la Brown GP è sicuramente a mano posto più veloce nel 2009 ha vinto anche il mondiale ecco buonissimo Trulli ritirato guarda come sono partito ragazzi sono partito a bomba non è che il Cume col volante vuole fare una gran gara va in vola Ticume e siamo già in testa che io devo sfruttare la Brown GP che qua è veramente fenomenale con i diffusori taroccati ci sono state molte polemiche in questa stagione mi ricordo la BMW è pronta in box probabilmente sono tutti gli incidenti che sono successi primo giro andato e ne mancano un pochino ne mancano vediamo se riusciamo a scappare via la vedo dura uh brutto errore lunghissimo mamma mia e comunque aveva un buon vantaggio dovremmo guidare bene dovremmo guidare bene rubizzo si è ritirato nel settore uno rubizzo ritirato glock non può continuare si è ritirato nel settore uno anche glock ritirato probabilmente i meccanici non sono riusciti a sistemare l'alettone ma non pensavo di andare così bene dopo le qualifiche ottavo bravo ce ne stiamo andando Fioi molto bene altro giro andato eh lo so vecchio mio lo so ingegnere 11 giri al termine molto bene che rischio perfetto ho trovato un buon ritmo e forse devo veramente alzare la difficoltà nel prossimo video non pensavo sinceramente a parte che ho la brown che qua le prestazioni sono tutte reali quindi la brown è superiore rispetto alle altre però dunque stiamo girando bene ragazzi siamo al nono giro mancano 5 giri sono sempre primi buono ho tagliato un po' perché purtroppo pensavo in una battaglia molto più grossa invece ho 10 secondi sull'osbar è pazzesco devo aumentare un po' la difficoltà allora come è troppo forte non c'è niente da fare 85 su 100 90 su 120 una qualifica anche ottavo invece in gara si domina sono molto battaglia anche dietro perché si è alternato Vettel Weber e Rosberg al secondo posto adesso solo la macchina mi potrà dire solo un guasto o una cagata del cume ecco quelle sono l'ordine del giorno però è chiaro che col volante c'è più soddisfazione a giocare un altro giro se ne sta andando sei primo quattro giri alla fine grazie vecchio mio dai button dai portiamo a cara sta vittoria qua l'ho rischiata qua l'ho realmente rischiata stavo massacrando 13 secondi it's incredible it's incredible ti prego brown non mi tradire adesso altro giro completato sei primo grazie caro tre giri al termine ben fatto hai appena ottenuto il miglior tempo in gara ho fatto uno trenta qualcosa ci ho laps ci ho laps vai che mancano due giri il vantaggio è di 17 secondi quasi 18 ormai si domina buono come buono poi mancano pochi chilometri dai vecchio dunque pochi di tiri alla fine ho messo danni progressivi anche guasti progressivi qui però a parte all'inizio più niente e inizia l'ultimo giro final lap comandiano 20 secondi da web se non porti sfiga magari prossimo la mod ci spariamo la mod 98 99 adesso vediamo penso a 98 però abbiamo guidato in maniera perfetta forse mai successo col volante su 7-1 challenge un po' di soddisfazioni per il kume che però insomma a livello di difficoltà alla fine è basso per me non pensavo sinceramente ma meglio così meglio meglio così ultima curva ultima la parabolica ed è successo per jason batton in questa mod 2009 la prossima ragazzi mod 98 grazie caro ok secondo webber terzo rosbiff vettel hamilton alonso ok abbiamo i ritirati glock non classificato incidente per trulli ok ragazzi la prossima mod abbiamo detto mod 98 consigliatemi anche mandatemi un commentino su che mod volete vedere perché ci sono ripeto dell'any 50 fino al 2015 e niente un saluto del comandone veneziano ciao ciao